Sin dolor non hai ganato, tutto questo ha un valore, per il quale hai che luchar, a pesar di tropezzare, di che importa le haganci, se fu così facile di non arrivare alla meta e al final, che mai avrà? Sì, lo sé, a veces hai che essere golpeato per poter crescere e alcanza un po' più di maturazione, perché non c'è la forma di sapere, mangiare lo che avviene. E anche il dolore in questi tempi può essere così cruel, però Dio non ci farà permanece allà, più tempo di quello che possiamo sopportare. Non vuoi passare difficoltà, però a veces servirà, per despertar il dolore che dentro hai, e farlo dalla comodità che ti afferre a questo luogo, e a la meta con firmezza avanzare. Sì, lo sé, a veces hai che essere golpeato per poter crescere, e alcanza un po' più di maturazione, perché non c'è la forma di sapere, mangiare lo che avviene. E anche il dolore in questi tempi può essere così cruel, però Dio non ci farà permanece allà, più tempo di quello che possiamo sopportare. non ci farà permanece allà, non ci farà permanece allà. e anche il dolore in questo luogo, non ci farà permanece allà.